A Rimini il 10 novembre si è svolta la seconda giornata nazionale di formazione dei giornalisti ambientali, promossa da Green Accord, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Unaga FNSI, Wigwam e Ambiente ed Ecomondo. Accolta all'interno degli spazi espositivi della Fiera Internazionale Ecomondo, l'iniziativa intendeva sottolineare l'importanza di un'adeguata formazione sulle tematiche ambientali per i giornalisti, affinché questi possano comprendere e quindi comunicare al meglio le tante problematiche, ma anche gli aspetti più innovativi legati all'ambiente. All'interno del padiglione Città Sostenibile, che si ispira al concetto di Smart City, giornalisti ed esperti del settore si sono incontrati, dando vita a tre tavole rotonde, per affrontare argomenti come sostenibilità ambientale, ricostruzione e riqualificazione delle aree degradate. Il cuore comunicativo di questa città sostenibile è stata la Sala Convegna Gorà, dove Luisella Meozzi, presidente Green Accord, Emilia Romagna e Toscana, ha presenziato. Green Accord, che è nata circa 11 anni fa proprio dall'idea di un piccolo gruppo di giornalisti, sia della carta stampata che del video, è un'associazione che ha capito anzitempo quanto era importante la specializzazione dei giornalisti in un ambito come quello ambientale, che è di per sé stesso immenso e difficile da trattare. Fare formazione ai giornalisti 11 anni fa cosa voleva dire? Voleva dire prendere dei giornalisti che generalisti affrontavano qualsiasi tipo di argomento, insegnare loro come rapportarsi a una disciplina che appunto è vasta e che richiede essa stessa poi delle sottospecializzazioni. La stampa generalista sembra dare maggior risalto agli aspetti spettacolari delle tragedie ambientali. Qual è invece il ruolo del giornalista specializzato? Il giornalista specializzato è proprio quello che dovrebbe andare a indagare quali sono gli effetti di quel disastro, oppure come si stanno comportando gli amministratori sul territorio, che cosa sta succedendo, come reagisce la popolazione, se ci sono delle conseguenze sulla popolazione. Ecco, questo è il modo di trattare la notizia ambientale anche del disastro, cioè di riuscire a fare degli approfondimenti delle inchieste che abbiano un senso. Dottor Stefano Serafini, direttore di ricerca della Società Internazionale di Bio-Urbanistica. Lei oggi ha citato un suo collega dicendo che il solo è il più grande architetto. Cosa intendeva con questa frase? Mi riferivo a un principio fondamentale della bio-urbanistica che è il ritorno alle leggi di natura, in particolare alle leggi della forma, quindi la considerazione delle leggi che governano il modo in cui si dà la realtà a livello profondamente e strutturalmente architettonico. E' uno dei contributi principali della nostra disciplina che abbiamo utilizzato in questo convegno per presentare una nuova prospettiva di tipo epistemico all'interno di un discorso che rischia altrimenti di diventare pura moda, superficialità e sostanzialmente giro di soldi. Come si pone la bio-urbanistica di fronte a tematiche come la ricostruzione? Ma questo era un po' il tema del mio intervento, cioè l'epistemologia del ricostruire. Ricostruire si può fare esattamente come costruire seguendo dei criteri esterni, quelli che noi definiamo non strutturali, cioè che si riferiscono a alcune parti della realtà, ad esempio la funzionalità economica, ma ci sono funzionalità che toccano soltanto parti della realtà, parti degli aspetti dell'umano. A noi interessa un qualcosa che possa ricostruire recuperando l'intenzione primaria della gente che ha posto lo spazio in dimensione umana, cioè qualcosa che possa restituire funzionalità, bellezza, armonia, benessere all'essere umano nella sua interezza. Quando si parla di rinnovamento e ricostruzione, spesso sono le stesse amministrazioni a porre degli ostacoli. Come si possano aggirare? Questo è uno dei problemi seri, quando ci riferiamo a un discorso strutturale non è banale, ci riferiamo anche a problemi di tipo giuridico, amministrativo, di blocchi del sistema che si è in qualche modo intasato, si è avvoltolato su se stesso. Quindi la soluzione secondo me, noi la stiamo vedendo con la messa in pratica di quello che noi abbiamo creato come teoria e che diventa poi attuazione sul territorio, di una politica senza fare politica, una politica senza passare attraverso l'amministrazione, non per scavalcarla o esautorarla, ma semplicemente per passare direttamente al dato reale, al fatto. E questo avviene con l'aiuto della popolazione, con il trattare argomenti concreti e cercare di realizzare dei risultati vincenti sul territorio, di sviluppo reale. Questo tipo di azioni dà un'innovazione e a quel punto la politica in qualche modo è obbligata a seguire, a venire appresso. Grazie a tutti.